Adesso c'è l'automobile, adesso prendiamo la scuola, su, su, per cortesia. Se da giù c'è posto, tutto va su, guarda che parte devo entrare. Vai giù, torino. Adesso, non c'è l'automobile. Mi raccomando, non c'è l'automobile, non c'è l'automobile, non c'è l'automobile, non c'è l'automobile, non c'è l'automobile. Non c'è l'automobile, non c'è l'automobile. Non c'è l'automobile. Non c'è l'automobile, non c'è l'automobile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.